Cario energia e inflazione erodono i budget familiari dei sardi, lasciando poche risorse per i consumi che già da anni fanno registrare un costante calo. Quanto emerge da un report della Confeser Centri Sardegna che ha analizzato la spesa, il reddito e il risparmio delle famiglie sarde degli ultimi 4 anni caratterizzati da pandemia e lockdown, dalla guerra in Ucraina e dal cario energia, ma anche dalla corsa dell'inflazione. Secondo le stime dell'associazione, i sardi spenderanno per abitazione e bollette oltre 344 euro al mese in più rispetto al 2021. La voce più importante del 2023 è rappresentata dalla spesa media di 1.153 euro per abitazione, elettricità e altre utenze. Quanto alla spesa complessiva, la ricerca della Confeser Centri indica che quest'anno le famiglie sarde spenderanno in media 2.426 euro al mese e 210 euro in più rispetto al 2019, una crescita però non dovuta all'aumento dei consumi, ma interamente all'inflazione energetica, senza la quale la spesa sarebbe di 114 euro in meno rispetto al 2019. A picco anche i risparmi con le famiglie costrette ad attingere dalle riserve per poter far fronte alle spese quotidiane. Non c'è pertanto spazio per altri consumi, sottolinea la Confeser Centri. Le bollette hanno mortificato oltremodo il potere d'acquisto delle famiglie, riducendo gli spazi per gli altri tipi di consumi, sottolinea Gian Battista Piana, direttore regionale della Confeser Centri, uno scenario difficile che complica ulteriormente la già precaria situazione delle imprese del terziario, che in larga parte dipendono dai consumi interni. Ormai buona parte del budget dei sardi viene assorbito dalle spese per abitazione e per le utenze domestiche. Se poi a queste sommiamo le altre spese obbligatorie, come quelle per alimentari, abbigliamento e salute, ci rendiamo conto di quanto ben poco resti per altro.